Voleva diventare il nuovo boss del Vomero, Andrea Teano così giovane ma con un curriculum di tutto rispetto per la storia della mala di Napoli. Aveva fiutato il vento tra il Vomero e l'Arenella dopo l'arresto del boss Luigi Cimmino. Si sono dischiusi scenari inediti e non aveva perso tempo Teano. Appena uscito dal carcere si era messo in moto tentando di acquistare sempre più prestigio nella zona collinare. 36 anni, affiliato al clan Cimmino Cagliazzo, è stato stanato e bloccato in un'abitazione alla periferia di Napoli. Lo braccavano da tempo, polizie e carabinieri. Solo qualche settimana fa Andrea Teano era riuscito a sfuggire rocambolescamente alla cattura nel cuore della notte agli uomini della mobile scappando via sui tetti di piazza Muzi. Teano è anche accusato di aver tentato di imporre un pizzo da 3.000 euro al mese al titolare di un'associazione che si occupa di trasporto di malati. Gli investigatori lo hanno individuato, pedinato e catturato in un complesso popolare del rione di Pianura. In azione decine di carabinieri, un elicottero e cani. Vistosi braccato, Teano si è arreso. Lo scorso 16 ottobre Teano invece era riuscito a scappare. Non era solo, con lui si trovava un altro pregiudicato, Luigi Nasti. All'arrivo dei poliziotti riuscì ancora una volta a farla franca. Si dileguò scappando dai tetti una via di fuga trovata verso Parco Lapineta. L'altra notte invece la fortuna gli ha voltato le spalle.